lo stand ovviamente quello della axel come vedete siamo con enrico vaccari enrico le novità di questo nab partiamo con il falcon x 50 l'ultima novità che viene presentata qui in anteprima assoluta si in anteprima assoluta primissimo prototipo modello funzionante è il processore di gamma alta di più alta fascia della nostra del nostro range sostituisce il falcon 50 le novità di questo prodotto sono tutta la connettività quindi la pagina web l'interfacciamento via web il controllo remoto il pannello frontale touch e la l'aggiunta della possibilità di stream mare quindi l'audio oltre classiche ingressi uscite a e sebo analogiche digitali e mpx la macchina è stata pensata anche per andare direttamente in audio over ip e stream mare l'audio passiamo poi a un play out che viene rilasciato qui in versione 4k ultra hd esattamente tutta la parte televisiva play out sia l'automazione televisiva 24 7 sia i play out di produzione supportano dalla versione appena rilasciata l'output in 4k che diciamo sarà implementato in una prossima fornitura di tre studi con camere 4k grafica in 4k play out 4k tutta la catena in ultra hd andiamo avanti con l'altra novità tra le altre novità un nuovissimo codificatore rds che diciamo arricchisce già la nostra gamma piuttosto completa di rds è la nuova generazione quindi anche in questo caso tutto il controllo remoto e la gestione via web la fa da padrone la macchina digitale di nuovissima concezione sarà il primo gradino di una nuova linea di prodotti che seguiranno questo per ora solo un nuovo codificatore rds già pronto come hardware per la rds 2 una volta che usciranno le specifiche noi siamo però parte del consorzio del per definire le specifiche della rds e uscirà poi il codificatore anche mpx codificatore stereofonico con cosa concludiamo concludiamo con l'automazione radiofonica il dj pro che un prodotto leader del mercato italiano ma automazione radiofonica venduta in tutto il mondo e si arricchisce oggi di una nuova interfaccia grafica e tutta la parte di visual per le visual radio che stiamo equipaggiando in italia e all'estero l'ultima fatta è la tv e la radio di stato tv di stato in camerun enrico vaccari antonio franco dalla stenda della axel dal nab di las vegas per mille canali punto it grazie a tutti